io questo è il culaco tu spiegami come fai a reddito vabbè io cazzo sono saltato per aria pittà nella madonna sono saltato per aria mi hai sentito per tutta San Nicolò di ci va bene? ahahahahah ahahah ahahah ma ne sono scappati caprioli vinci in questo scontro e torni in prima linea non vi siete morsi nel culo che cazzo lo erano a fare ha commentato che cazzo? che vero! che bollatino fija carica sto porco diiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii lo sei guadagnato lei registrarà anche questa perché sto ancora tentando di registrare quella di prima dovrebbe ancora rai Grazie a tutti.